Il Presidente e il Direttore del Documentazione Centro di Luzeren ha chiesto i giornalisti della provincia che hanno chiesto in un'altra parte. Leggando per niente le dati che si tratta, se ci si tratta di un'altra parte, mentre la legge del Costume del Dolomite ha riuscito più oltre 12.000 persone. La scuola di Pern, il cacciatore delle Alpi, da predatore a gestore, è un po' stolto. Per oggi, dopo 5 Monate, ci sono 8.800 persone. Ora, la gruppe per le Corriere, dove ci sono accenso, è molto meno. Ma credo, per la crisi dell'economia, i fatti di tecnici, è molto meno, cosa è vero. Ma il argomento, dove la cazza e tutte le scuole, e anche più, le vecchie, dove ci sono in le luci, dove ci sono in le luci, hanno anche la violenza in le loro. E così, dove ci sono anche non le famiglie. La buona bambina è parlata dove c'è la mia risposta, dove c'è il fine, 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 dove c'è il fine. Il Monbo da hat ergerichtet die Auslegung. Questo è il secondo anno che noi veniamo qui e abbiamo trovato tanta ospitalità e abbiamo avuto un buon successo anche di persone in modo speciale quest'anno che l'abbiamo fatta qua al centro di Luserna. E' stata una nota anche piacevole perché pensavo che nel paese di Luserna con grandi tradizioni che ha di funghi fossero un po' gelosi della sua cosa, invece ho visto una buona affluenza anche di gente del paese e tantissimi naturalmente villeggianti, in particolare Veneti, Vicenza, Padova. Le domande particolari ce ne fanno tantissime, specialmente le differenze che ci sono fra le russule e il genere russula, che è un genere anche abbastanza difficile perché si scambiano facilmente i colori e allora noi siamo impegnati a spiegare le varie caratteristiche del fungo. Poi le amaniti pericolose, le amaniti falloide, la virosa, questi funghi si possono trovare anche nei boschi di Luserna, non tutti perché per esempio io l'amanita falloides non l'ho mai trovata nei boschi di Luserna perché predilige il suo abito, sono i noccioli o lontano e quelle cose lì. Invece qui nei boschi di Luserna si può trovare facilmente la amanita virosa che è altrettanto pericolosa come la falloides e poi in particolare qui abbiamo questo fungo che è forse il fungo più pericoloso e questo lo troviamo anche qui a Luserna. Il fungo è lo coordinario speciosissimus e tanti lo scambiano per il chiodino, per l'armilaria melea, questo fungo è molto molto pericoloso perché ha un'incubazione di 15-17 giorni prima di manifestarsi e quando si manifesta è troppo tardi perché prende direttamente i reni e si va in dialisi o tra pianti e cose del genere o si muore. Noi consigliamo il fungo di raccogliere sempre il fungo intero, prendere il fungo, levarlo dal terreno e non tagliarlo come si fa in genere quando si va a prendere il tarassaco. Perché succedono certi avvenamenti? Perché vanno, tagliano il fungo e si presenta solo il carpofaro sopra e quello se noi tagliamo la amanita falloides per esempio ha il colore di una russula. Se noi prendiamo per esempio questo fungo qua e lo mettiamo vicino, prendiamo solo il cappello e vediamo verde questo, verde questo, però se lo prendiamo intero vediamo qui c'è una volva che è questa qua, qui c'è un anello qua in cima e allora noi capiamo che questa è una amanita falloides. Prendiamo questo fungo invece, vediamo è privo di volva, non c'è la volva e non c'è l'anello, allora capiamo che non è una falloides e anche per determinare il fungo ci vogliono queste caratteristiche e queste cose. L'importante è dopo di non toccarla, che non vada a contatto con la bocca continuamente che potrebbe entrare qualche pezzettino, ma però toccandola poi si lava le mani, non succede niente insomma. Se va assieme agli altri funghi noi consigliamo sempre di buttare perché potrebbe entrare qualche pezzettino dentro nel misto, negli altri funghi e questo è molto pericoloso, però certi, certi, io consiglio di non farlo, lavano i funghi e li mangiano ugualmente, però non sono cose da fare perché basta un piccolo pezzettino per creare dei danni insomma. Con la muscaria, abbiamo qui la muscaria, questo fungo è un fungo velenoso, dunque la tossicità di questo fungo è nella cuticola qua sopra, questa qua, vediamo, la leviamo e questa qua è qui il veleno perché contiene delle sostanze allucinogene, di fatti certi si drogano con queste cose che fanno siccare e poi le mangiano. In sé, questa manita, la tossicità è nella cuticola, nella pelle sopra, però comunque non sono cose da fare, noi mettiamo tossico anche tutto il fungo, ecco. Ecco, io ne approfitto per ringraziare la proloco di Luserna e il comune di Luserna che questa mattina è venuto a trovarci anche il sindaco, con molto piacere e speriamo di rivederci anche per l'anno prossimo insomma. In Abbas, un 12 di agosto, in la grande sala di Pöhn, è stato fatto in Abbas, dove poesia, musica e singe, è gerizzato dal Culturverein Luserna. Da Adolf von Zett e da Aldo Forer, dove è arrivato, hanno chiamato un canzullo con i bambini, con qualcuno che diceva e vuole in un nostro lettere. Se è la poesia, dove c'è un canzullo, è il canzullo dal Presidente Gianni Zyga, è stata un poesia, è scritto con i abbracciami, con i bambini in grattaci, in bambini, in italiani, dove c'è il canzullo con i bambini, ma è stata un canzullo con un canzullo un canzullo con gli giusti. La città è stata un canzullo con i bambini. In Kulturverein le foto sono in concorso «Luzern, gestern e oggi». Le pezzi foto che si sono chiamati, si sono venuti a 5 anni e si sono venuti a un calendario 2015. In fondo del concorso abbiamo il sito www.kulturverein.luzern.it In agosto del 22 agosto, nel Kulturinstituto Luzerno, è gesterno in agosto, ma spiegare l'Ipu del Veneto. In questo caso abbiamo il sito dove cazzo in Vögl, dove fino a 100 giorni è stato fatto, dove le lezioni sono riusciti a lavorare. Questo è stato fatto per Bracconi. In questo caso, il documentazione centra, è stato il sito di Francesco di Grazia. In questo caso, dove in conferenze è stato dirigito il documentazione centra, in cui si chiama il posto di KU, dove in Pern, oggi in TABAS, in Ubaldo, dove sono in KU, dove in KU in Luzerno, dove in KU in Luzerno, dove in Luzerno. E anche in questo caso, tutti in Valti chiamano Walter. Walter è stato fatto in una foto con la natura e il suo lavoro, dove sono stati foto, dove sono i nostri occhi. Un biedere per la cultura di Luzerno in Sons da Bodakint, Luzerno in Arbotta, i cimbi nella mitologia e nella leggenda. Di 9 abba, in la grande sala di Pöhne, a conferenza che storge per l'architetto Paolo Zammatteo e per Davide Zaffi. Un'est gieba a sega das lest zimberle gebochtet, wo des gebochtet, afts 12 wo Agosto, di Ingrid von Alex von Knepp und a Maria Elena Wunder. What a difference a day made, 24 little hours, bought the sun and the flowers. Un'bietitza schiumma diaren le sperrbach zimbererde potisa boch, di boch potakimba parasson anon das schiumma zimberle potes gebochtet gestern. Un'gruas von Stefano von Galen.